A 23.30 vi lasciamo un telefilm della serie NCIS Los Angeles, grazie per essere stati con noi, buona serata. Chietali Vivace, una ricetta di Gualtiero Marchesi. Nuova Ypsilon Cinque Porte. L'eleganza è un diritto. Solo ad ottobre su tutta la gamma 4 anni Tanzero. Nuova Ypsilon Gold. Scoprila negli showroom Lancia. Da carote e mandorle nascono le camille. Ricche di gusto e di vitamina A ed E. Camille Molino Bianco Crea il tuo Sky. Da oggi hai infinite combinazioni. Per comporre Sky come vuoi tu. Sky, liberi di... Hai presente le ragazze che sognano di fare le ballerine? Ecco, io non ero una di pelle. Io volevo cambiare il mondo. E poi, mentre ci provavo, è arrivato l'amore. Ma così come è arrivato, beh, se n'è andato. Poi ho pensato, questo è il momento di muoversi. Vedere posti nuovi, insomma, viaggiare. E poi... E poi? E poi tu mi hai chiesto, ti va a un Campari Soda? Siamo mondi da esplorare. Campari Soda. Piacere di conoscersi. Campari Soda. Mastica, vivido, el από. Solo a ottobre, su tutta la gamma, 3.000 euro di rotamazione più... Via le moto. Autos. Autos. Autos.